No, no, non era questa che volevo ascoltare? Sì, 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 eccola qui, eccola, adesso la metto e eccoci qua, sì, sì, ecco. Ehi, signore, potrebbe abbassare? Abbassare? Che cosa? La musica! È assordante! No, è rilassante! E va bene. E comunque, chi saresti tu? Beh, potrebbe per favore dirmi chi è lei prima? È complicato. Per il momento, chiamami Brucaliffo. Grazie. Grazie. Grazie.